Musica Dopo un lungo filotto Lanzio Lavinio si ferma con la capolista Siamo qui con il capitano Mastrofrancesco Non è bastato il gol iniziale A sbloccare la partita Forse è stato fatale il gol All'ultimo secondo del primo tempo Dell'Ostia Sì abbiamo fatto un primo tempo Dove abbiamo comunque dominato È stata una bella partita Ritmi alti Abbiamo preso l'ultimo gol All'ultimo secondo Perché comunque magari la stanchezza A fine primo tempo E quello già si è penalizzato Perché comunque finire la partita Sul 2 a 0 Sul 2 a 1 Un po' psicologicamente cambia È stata una piccola distrazione nostra Però purtroppo capita anche questo Nel calcio Allora partiamo proprio Forse non proprio da quell'episodio Primo tempo Di marca locale Voi avete sfiorato più volte Il gol Un palo proprio interno Palla che è schizzata fuori Poi è arrivato il gol del vantaggio A quel punto La capolista Non sembrava essere Quella squadra Che fino a questo momento Stava Sta dominando il campionato Anche perché in campo Si vedeva proprio Soltanto L'Anzio Lavigno No il primo tempo È stato tutto il nostro Ciò che non ci penalizza È che purtroppo Non abbiamo cambi Per quanto sia Dopo Il secondo tempo Manca lucidità Manca comunque Staccare Di prendere Loro hanno fatto cambi Cambiavano in continuazione Noi purtroppo Non avevamo questa possibilità Però penso che sia stata Una partita giocata Alla pari Anzi il primo tempo È stato tutto il nostro Anche se poi Andiamo ad analizzare I gol della Virtustosia Sono arrivati Su calcio piazzato Perché il primo È il gol Quello su calcio Di punizione Che ha dato poi il pareggio E poi su calcio d'angolo Un po' forse Un piazzamento Non corretto Però questo Anzio Lavigno Ha dimostrato Che di poter Veramente Far qualcosa In più Che è mancato Ma guarda Tutti i nostri gol Che abbiamo preso Se vedete Gli Alex Sono tutti su calci Piazzati Da fermo Quindi abbiamo sicuramente Dei problemi Su questo Su azioni Loro non hanno Fatto nessun gol Quindi sicuramente Abbiamo delle pecche In questo Però noi Non abbiamo niente Da recriminare C'è stata una bellissima partita Giocata sul campo E a noi va bene così Insomma Comunque abbiamo dimostrato Che non siamo di meno Dalla capolista Ebbene Allora ci trasferiamo Ci spostiamo Verso Falconetti Resta la delusione Perché poi Perdere in questo modo Fa sempre Un enorme C'è sempre Molta amarezza Comunque La squadra Forse qualcosa Nel secondo tempo È mancata Sicuramente L'amarezza Della sconfitta C'è Però Dobbiamo vedere Sempre il bicchiere Mezzo pieno Abbiamo condotto Un ottimo Campionato Un primo tempo Eccellente Se analizziamo la partita Un secondo tempo Che magari Potevamo Fare sicuramente Qualcosa di più Non dimentichiamo Che qui Soltanto A parte La Virtusosa Solo la polisportiva Ostiense È riuscita a far punti Bottino pieno Per il resto Hanno lasciato Tutti Tutti i punti Ma la squadra È una squadra Che sa Quello che fa Una squadra preparata E ha condotto Ripeto Un ottimo Campionato Oggi Ci siamo trovati Davanti a un'evidenza Che è quella che Appena adesso Ha elencato il capitano Quindi di avere Poche risorse In panchina In questa fase finale Del campionato E questo forse Ci ha penalizzato Un pochettino Però non ricriminiamo niente È stato un ottimo Campionato C'è sempre da migliorare Ma siamo soddisfatti Di quello che abbiamo fatto Chiudiamo Chiudiamo Con l'ultima battuta Proprio ripartendo Da quest'ultimo pensiero Si dovrebbe forse Un po' lavorare Però in un futuro Neanche immediato Però pensare Ad avere Una squadra Che ha più Una panchina Un po' più lunga Qualche risorsa In più Anche per dare Un po' più di respiro Perché In questo sport Poi soprattutto I ritmi Sono elevati Beh sì Diciamo che noi Ci stiamo lavorando Però comunque Abbiamo le persone giuste Qualche rinforzo Sicuramente arriverà C'è Però Diciamo che comunque L'organico c'è Ci siamo Ci siamo Tutte quante Quindi Noi comunque Ci consideriamo A posto così